Tra i casi più eclatanti di indebita percezione del reddito di cittadinanza scoperti dai carabinieri del comando interregionale Ogaden durante i controlli eseguiti in cinque regioni Campania, Puglia, Abruzzo, Basilicata e Molise figura anche quello emerso in provincia di Avellino dove un settantenne convivente con una funzionaria comunale che non è indagata possedeva una lussuosa Ferrari, numerosi immobili e terreni di proprietà. A Collepasso, in provincia di Lecce, una delle persone individuate ha dichiarato la presenza nel proprio nucleo familiare di sei minori stranieri mai censiti in quel comune con i quali non aveva alcun vincolo di parentela. Sempre in provincia di Lecce, una coppia ha inserito nel proprio nucleo familiare la presenza di altri familiari in realtà residenti in Germania. Le irregolarità emerse sono 4.839, il 12,6% dei 38.450 nuclei familiari controllati per un campione di 87.198 persone. Secondo l'Inps, allo scorso 30 aprile risultavano per cettori del sussidio in Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata esattamente 387.076 nuclei familiari. Le denunce riguardano 3.484 persone, 9,1% rispetto al numero dei nuclei familiari controllati. Di questi ultimi, il 38,4% sono soggetti già noti alle forze dell'ordine, tra cui il 2,6% gravati da condanne o precedenti per reati associativi. L'azione di contrasto ha evidenziato che nel periodo e nei territori controllati le irregolarità riscontrate hanno generato 20 milioni di euro percepiti indebitamente. Tra i soggetti dei feriti nell'intera operazione, il 60,2% sono uomini e il restante 39,8% sono donne. Inoltre il 59,4% dei dei feriti sono cittadini italiani, mentre il restante 40,6% di nazionalità straniera. Nell'operazione sono coinvolti anche dei molisani. I dettagli saranno illustrati dopo domani in una conferenza stampa convocata a Chieti presso la sede del Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise. Nei guai, tra gli altri, a Isernia è il titolare di un autolavaggio e a Campobasso un giovanissimo intestatario di tre immobili.